L'Infoma Day, qua in Reggio Calabria, siamo con la dottoressa Olimpia Bucinà. Come ogni anno, l'Infovita, il 15 settembre, celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sui linfomi e i disordini linfoproliferativi. Il titolo dell'evento di quest'anno fa riferimento al coraggio di vivere, perché ci vuole molto coraggio ad accettare, ad accogliere la terapia, ad affidarsi ai medici e al loro programma di cure. Tutto questo ci aiuta a dare un senso all'esperienza della malattia e in questo viaggio, in questo percorso, l'incontro con l'Infovita, che è un'associazione di pazienti, ci ha permesso di condividere le nostre esperienze e di alleggerire il peso che portavamo addosso. Grazie ai continui sviluppi della ricerca e alle numerose innovazioni terapeutiche, oggi dalle neoplasie emautologiche molto spesso si riesce a guarire. La strada è ancora molto lunga, ma sicuramente stiamo seguendo il percorso giusto per riuscire a sconfiggere questo male. Grazie a tutti.